Oggi ufficiale, Rocca Pendice, anche se sarebbe più corretto chiamarlo Monte Pendice, viene gestito dal parco. Sì, la famiglia Scalabrin ci ha dato in consegna veramente una perla dei Colli Ugani. La Regione Veneto ha acquisito questo bene, volgarmente conosciuto come Rocca Pendice, e ce l'ha dato in gestione. Noi, insieme a diverse associazioni già presenti su questo luogo, pensiamo per esempio alla Lipu e al Cai, cercheremo di ottimizzare veramente le risorse di questo piccolo scrigno. Infatti è un sito che ha un potenziale enorme sia dal punto di vista naturalistico che turistico. Sì, quest'anno, nell'anno della biodiversità proclamato dall'ONU, noi ci siamo concentrati su questa grandissima risorsa, una risorsa che è contenitore di biodiversità, pensiamo al Falco Pellegrino, una specie d'eccellenza già presente da molti anni in questo ambiente, ma non solo, abbiamo delle felci rarissime e altre specie botaniche veramente di importanza notevole. Ecco, per quanto riguarda lo sport, invece, notissima palestra di roccia, cosa pensa di fare il parco a riguardo? Sì, il mondo dei giovani conosce perfettamente Rocca Pendice, perché soprattutto per chi si approccia la prima volta all'arrampicata, questa è la prima palestra naturale disponibile per Padova e dintorni. Il parco pensa di gestirla in modo, di regolamentarla soprattutto per renderla fruibile in tutta sicurezza e penso che qui la collaborazione col CAI si rafforzerà. Quindi natura, turismo, sport, ma anche escursioni? Sì, abbiamo anche qui differenziato l'offerta, abbiamo già previsto, in collaborazione con l'università che ha curato lo studio, due tipi di fruizione a piedi, una passeggiata rivolta alle famiglie, quindi una domenica diversa da passare all'interno dei colli e, d'altro canto, invece, un'escursione un po' più impegnativa rivolta agli specialisti del settore. Un'acquisizione importante, Montependice, per la Regione Veneto nell'ambito di un piano che sta portando avanti nell'ambito della biodiversità? La biodiversità è una parola magica che ormai deve entrare di uso comune. Con la biodiversità abbiamo costruito l'orizzonte dell'Arzo Veneto perché l'abbiamo scritto le reti ecologiche di questa Regione. Sicuramente questo qua è un gesto, un avvenimento fortemente simbolico e spero che a questo gesto ne seguano altri. Ecco, comunque un momento che è collegato anche alla Green Economy. Certo, si parla tanto di Green Economy, il nostro Presidente ha parlato di Green Economy. Evidentemente avere a mente questa risorsa della natura significa anche avere a mente un tipo di sviluppo che può portare sicuramente sviluppo ma anche benessere alla nostra comunità.